bella leggende è l'ale del futuro che vi parla perché questo video è stato registrato il giorno prima dell'aggiornamento del meteorite si era saputo già bene o male l'itinerario di questo meteorite noi abbiamo protetto magazzino muffito sperando di salvarlo dall'impatto di questo gigantesco meteorite alieno ragazzi vi faccio vedere l'opera che abbiamo compiuto con tantissimo lavoro e poi alla fine vedremo se effettivamente avrà funzionato inizia a registrare mai mai bella leggendo io sono malefretto e scusami che non nomi ma chi è che scusate però che non conosco incredibile attenzione vuoi fare però non fare la fine di dising attenzione adesso lo mettoni tag e faccio i money ma siamo 43 a 50 ma cos'è poi contando noi siamo meno di 30 visto che noi non fai ti amici contando noi siamo c'è pensato e ho detto ma non faccio il calcolo non ci voglio non mi potrà provare a arrivare a me 38 va bene 38 non è vero 39 mi bevo lo scendo ma che lavoratori siete voi e io non fai tutto io mi so dire ma che dite stavolta ce la facciamo a non infrangere la barriera no non ce la facciamo vero vero matte non ce la facciamo anche stavolta distruggiamo mezzo magazzino muffito ma come non si vede questi giovani d'oggi non hanno rispetto di nulla però che bello amore che fai che leggenda sei 5 minuti la storm ho dovuto demolire mezzo magazzino noo arriva un giorgino aiuto ecco l'ho detto ok raga ho finito il mio lavoro vai aiutaci per loro ultimi tre pezzi due pezzi un pezzo ok ho finito ho finito l'eglio vado a prenderne ancora un po' matte questo cos'è? che fai che ho fatto sto coso qua? jazz legendary è la leggenda scusate ma dopo scendiamo infatti eh non c'è la safe ma è finito raga eh si dovete chiedere solo il mio lavoro raga da me da me non c'è dovete chiederlo tutto vai quanta mattone hai? zero però 500 legna raga se scriviamo una jl sopra gigante ci state io la faccio se volete eh sento sento che mi date un po' di è arrivata la safe raga ho finito l'eglio ma cosa è finita? ma cosa è finita? raga ma ci sono 20 milioni di giorgilli raga ma cosa sta succedendo? ma no raga ma ci stanno dando una mano ma è finito raga aspetta sto demolendo le ultime parti del magazzino vai se vuoi ti do ho ferro davi tutto il materiale che hai davi tutto il materiale che hai davi tutto il materiale ma c'è ma c'è cosa sta facendo Nora? Kevin ma stai calmo Kevin ma no ma guarda posso stanno rovinando tutto ma stanno rovinando tutto ma che hanno fatto? ma che problemi ha? ma te l'ho detto ma io non ho parole ma che beh ci sarà un secondo in cui la piramide è completa vabbè però ma è completa signor Giorgio mi scusa signor Giorgio ma cosa sta facendo signor Giorgio? vabbè io vado in safe ciao amante no scherzo no stanno spaccando le scale io vado con il trampolino che non ci sono ancora stato ma cos'è quella amante? voglio farlo già e però non è facile ma da bomb manager che hanno distrutto la jump no mamma mia raga ma è bellissima no è caduto un meteorite ma dove la save? è caduto un meteorite raga ma non so dove già sto scrivendo già 6 gendersi ma se c'è la safe boom 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 ancora uno e poi il carriero sono vissuto no sono morto dai dai guardiamolo che vale ma la scritta LJ è scritta LJ ma che c'hai ma che c'hai ma che c'hai la J è giusta poi la L è contare ma che è scritto ma che cos'è quella roba ma che cos'è quella roba ma che ci può fare vedere la cosa di Kevin ma non così cattivo però che bella è raga aspetta fammi fare una bella ma raga ma ma è bellissimo ma raga ma ma già spero muoviti di dare perché fra un po' è domani è domani fra un po' è domani ma che cos'è Grazie a tutti. 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 Non c'era stamattina ma comunque lo ringrazio lo stesso. Noi ci vediamo come al solito al prossimo video. Vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale. Io vi mando un salutone leggendario.